I bambini aretini sono i più vaccinati della Toscana. È infatti in occasione della giornata mondiale contro la meningite che l'azienda sanitaria ha deciso di fare il punto della situazione sulla campagna vaccinale. Nel 2018 le coperture vaccinali relative ai bambini di 24 mesi per la provincia di Arezzo sono state infatti le più alte della Toscana, 94,62% contro una media regionale del 91,09%. Nella rettino, nonostante questi numeri record, però nelle ultime settimane si sono registrati due casi. Lo scorso 20 aprile una giovane valdarnese è morta per una sepsi da meningococco B, pochi giorni dopo, sempre in Valdarno, un 57enne è stato ricoverato per un'altra sepsi, in questo caso da meningococco C, fortunatamente senza gravi conseguenze. La meningite è una grave infiammazione delle membrane che avvolgono il sistema nervoso centrale, le meningi appunto, causata da batteri, virus, funghi o altri agenti patogeni, le forme batteriche sono le più gravi ma prevenibili con vaccini. Per quanto riguarda il meningococco B la vaccinazione è raccomandata ed è gratuita per i bambini, per i neonati, per il meningococco C questa vaccinazione oltre che nei neonati è raccomandata nei bambini e negli adolescenti. E' ovvio, esistono anche delle categorie cosiddette a ristio dove c'è un'indicazione assoluta a fare la vaccinazione non solo per il meningococco ma anche per altri patogeni quali lo pneumococco, l'influenza, l'hemofilus e così via. E' stata infine prorogata fino al prossimo 30 giugno la campagna straordinaria della regione toscana che estende la gratuità del vaccino contro il meningococco C sino al compimento dei 45 anni.